Una vasta area di alta pressione interessa gran parte dell'Europa. Nelle prossime ore si sposterà verso l'Atlantico, continuando tuttavia a proteggere il Mediterraneo. Sabato 15 marzo in Toscana cielo poco nuvoloso con locali addensamenti in mattinata sulle pianure del nord e passaggio di nubi alte e sottili nel pomeriggio. Venti deboli, mari poco mossi con moto ondoso in aumento da pomeriggio, temperature minime e lieve aumento, massime stazionarie o lieve calo. Cielo poco nuvoloso velato su tutta la provincia di Lucca. Nella Piana temperatura minima prevista 5, massima 20 gradi. In Versiglia minima 7, massima 19. In Garfagnana minima 5, massima 19 gradi. 3, massima 20, massima 20, massima 20? In Sorry la zona era 3, massima 20. Perd ALEXA TACERA